Mi incontri a Sandoria, timore reverenziale, un po' di timore, loro sono entrati in campo decisi e a fine è stato così, il primo tempo è andato di gioco. Perché alla fine è un risultato bugiardo, però per colpa vostra è bugiardo, cioè non è questo, non è forse il concetto. Come lo vedi tu, era giusto un pareggio? Il risultato secondo me era giusto, dopo la reazione che abbiamo avuto su 2-0, era giusto anche un pareggio. Però è importante guardare la reazione che abbiamo avuto e ripartire da quella, perché dobbiamo ripartire e abbiamo adesso 3-4 partite importanti e quindi dobbiamo partire dagli ultimi 15 minuti.